Partiti! All'interno è Wonderaid, all'esterno Vennarici, seguono Emmasatetu, Melchise, Lord Fabren, Duinist e Climatologist. Sempre all'interno Wonderaid, con all'esterno Vennarici, seguono Emmasatetu, Lord Fabren, Climatologist e Duinist. In leggero vantaggio Wonderaid, davanti a Vennarici, Lord Fabren e Musatetu, si avvantaggia Wonderaid davanti a Vennarici e Lord Fabren. La vittoria non sfugge al favorito Wonderaid, il numero 8 con Nicola Pinna in sella, al doppio consecutivo nel pomeriggio per ora.